Salve tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere così i problemi riguardo alla connessione ai problemi ai server matchmaking su Call of Duty Warzone in passato ho realizzato molte guide su come risolvere i problemi alla connessione, ad alcuni è andato e ad altri invece no perché c'è stato anche un malfunzionamento temporaneo quindi era solamente una cosa temporanea e poi si è risolto, però se avete questo problema e lo riscontrate sempre ogni giorno è possibile fare un aggiustamento alla nostra connessione wifi quindi iniziamo prima ad andare sulla nostra impostazione di connessione internet, quindi impostazioni rete e internet, andiamo in impostazione di rete avanzate scendi fino a ciò fino a trovare il ripristino della rete, qui farà un ripristino della rete, quindi cancellerà tutte le reti sul pc però non cancellerà la rete cancellerà solamente la password salvata, quindi farai un ripristino, quindi prima di ripristinare mi raccomando ricordati così la password della tua rete wifi quindi fai il ripristino e poi riavvia il tuo sistema operativo se non dovesse funzionare possiamo sempre andare sulla nostra rete, io per esempio non ho mai problemi su call of duty perché uso anche il cavo ethernet che è meglio della wifi quindi come puoi vedere ci sono tutte le connessioni rete wifi sul mio pc installate e c'è questa qua del mio cavo ethernet puoi sempre fare disabilita la rete, abilitarla di nuovo, scendere qua, quindi clicca qua sopra, altre opzioni scheda e fai modifica andiamo sulla nostra rete protocollo internet versione 4 utilizza i seguenti indirizzi server dns ovviamente uso anche i server dns del dns benchmark in descrizione ti ho lasciato anche il link che ti porterà sulla pagina per scaricare così il programma per inserire i migliori dns che sono disponibili ora quindi basta che vai su name server aspetta anche un paio di secondi e poi andremo così a fare un benchmark della nostra rete per vedere anche quali sono i migliori server dns da aggiungere qua sopra facciamo run benchmark e aspettiamo ok ed eccoci qua i migliori server dns per ora, quelli buoni, sono questi qua, ce li hanno anche evidenziati l'8.8.8.8 e il 156.254, gli stessi che ho inserito anche qua sopra tu puoi provare tutti i server dns per esempio quello più alto è questo qua, del 198 fino al .1 e lo inserisci qua come server dns preferito vai ok, chiudiamo tutte queste schede ora andiamo direttamente sul nostro cmd quindi fai sul cmd prompt dei comandi fai esegui come amministratore vai a scrivere ip config spazio slash flush dns e fai invio configurazione ip di windows quindi cache del risolve dns svuotata una volta fatto vai a scrivere sfc spazio slash scanno sfc spazio slash scanno w alla fine fai invio avvio in corso dell'analisi del sistema e attendiamo l'operazione una volta fatto tutte queste procedure non ti resta che riavviare il sistema e mi raccomando usa sempre un cavo ethernet se disponi di un cavo ethernet e lo sostituisce al posto della connessione rete wifi ok nessuna variazione di integrità trovata una volta fatto chiudiamo un attimo qua andiamo su andiamo sul nostro windows defender protezione firewall e della rete consente app tramite firewall ed eccola qua modifica impostazioni ovviamente qua dentro dovrai aggiungere così call of duty wordzone ovviamente vai su consente un'altra app vai su sfoglia e vai così a mettere l'applicazione di call of duty qua dentro una volta fatto vai a mettere la spunta privata e pubblica più di qua e andiamo direttamente sulla cartella app data vai su esegui per cento app data per cento e fai ok senti fino a giù fino a trovare così una cartella che si colleghi così a call of duty come questa qua anche se è vuota la cancelli lo stesso vai su app data local senti fino a giù sempre se c'è una carta di call of duty ed eccola qua la cancelli e basta svuote anche il cestino e gioco è fatto in questo caso se non dovesse andare possiamo sempre fare la verifica al gioco quindi tasto destro sopra su call of duty vai su proprietà poi un altro fatto vai su file installati e poi c'è scritto la verifica integrità dei file questo è per steam per blizzard invece sempre sulla rotella impostazioni c'è scritto ripara ripara basta solo là e devi aspettare un paio di minuti se hai altri problemi su i problemi di connessione a call of duty commenta sotto al video cercherò di fare un'altra guida sopra iscriviti lasciate like noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao